Casi qui da Bethesda hanno differente materiale fuori di Ollanda per dire c'è un servizio. Il fatto che abbiamo un'pergo di politico con il progetto della politica. Ora si avessi il progetto di Bottezza e della città. Ma abbiamo bisogno di il progetto di Bottezza, però la città per il progetto di Bottezza. Ora si sono preparati un processo, che si sono rinforzati nelle città di Bottezza di Bottezza. Per il progetto di Bottezza, circa 5 luni dopo, per direzione di contattazione con Bottezza. e un contenitore grande che viene con la propria costa, con la mostra che è tremenda, mi sono sempre agradecita, mi sono sempre contenta, mi sono sempre con la propria costa positiva, non è bello con la Bethesda, e con la propria esperanza, con la Bethesda, mi sono sempre un'altra casa, mi sono sempre orgogliosa di oggi. Nota 1, 2, 3 anni è materiale per la Bethesda. Sveilissima una cosa è interessante, se vuoi fare una cosa che vuoi usare, è molto buono, la dignità, la nette, la cosa è buono. E ora che mi guarda, mi guarda, mi guarda, mi guarda, mi guarda, guarda qui con noi, da un corto tempo, 8 telefezzi, 9 caissi, 10 caissi, rostulli, 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 e la búsqueda di materiale resulta in contatto con Ines Espera. A informavo, Feivel Maduro, per notizia di estresa. Grazie. 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 Grazie.